d'immagine. O effettivamente esiste il tema delle prescrizioni inappropriate? Su ogni questione potremo intervenire e ragionare in termini numerici e i dati chiaramente vengono utilizzati, vengono manipolati un po' da tutti. Sono anche spesso diversi da una cosa o da un'altra. I dati riportati sono diversi a seconda delle fonti e anche a seconda dell'aspetto strumentale che se ne vuole fare. Quindi chiariamo prima un aspetto. Un esame diagnostico diventerà inutile dopo averlo fatto. Non si decide prima di farlo se un esame è utile o un esame è inutile. Si decide sempre dopo. Quest'esame era inutile perché? Perché è venuto negativo. Allora, una regola generale in medicina è evitare di fare un esame quando sappiamo che comunque non aggiungerà nulla in termini di trattamento. Se facendo un certo tipo di esame. Comunque non mi cambia nulla in termini di storia naturale della malattia, in termini di trattamento possibile non cambia nulla. Questa è l'unica regola che tutti i medici sono disposti a sottoscrivere. Su tutto il resto c'è un livello di autonomia clinica, di autonomia culturale, di autonomia intellettuale che io non credo che ci sia nessun medico che prescrive un esame con leggerezza. Soprattutto quando si tratta di esami radiodiagnostico dove si somministrano anche radiazioni tipo RX, TAC. Quindi invasivi insomma. Sono anche invasivi o comunque si dà un mezzo di contrasto che può dare... Quindi quest'idea di attribuire alla classe medica i costi della sanità rispetto a quel problema più grosso e più consistente che è la famosa medicina difensiva, che è una medicina cautelativa e di prudenza perché non si sa mai. Per esempio il soggetto è malato potrebbe insorgere un problema grosso per quel paziente, quindi prima ancora l'aspetto etico e poi il problema del contenzioso legale. Quindi chiaramente si chiama medicina difensiva. Ma attribuire tutta questa responsabilità ai medici in sé e per sé è assolutamente sbagliato perché io credo che ci sia già un sistema ordinistico, un sistema dei medici che sono attenti a queste problematiche e sono molto attenti anche alla spesa a oggi perché ormai sono stati tartassati tanto i medici nel chiedere queste cose. Esiste anche un sistema di bonus delle ASL per chi spende meno, chi prescrive meno, ci sono comunque dei metodi meritocratici. Diciamo che ci sono dei sistemi di lente di ingrandimento sui medici, quindi sentirsi osservati ti condiziona. Quindi per esempio questo farmaco non te lo do se non hai la diagnosi giusta. Succede tante volte che il paziente torna soprattutto dagli specialisti dicendo il medio di famiglia non me lo vuol prescrivere. Oppure questo esame, così come per le malattie, l'assenza da malattie, l'Inps, in realtà quante volte il medico ti dice no, io ho il certificato non me la sento di fartelo, questo farmaco non te lo prescrivo, questo esame non serve a niente. Perché i medici sono già stati abbastanza tartassati e condizionati dal sistema. La medicina difensiva poi. La medicina difensiva molto spesso è legata a dei protocolli diagnostico-terapeutici che sono stati stabiliti spesso dalle società scientifiche. Ma anche le società scientifiche non sono del tutto neutrali in termini di ricerca e di valutazione. Perché spesso sono sponsorizzate dalle grandi aziende farmaceutiche. Quindi pensate a come è evoluto il sistema in termini di valutazione dell'ipertensione, per esempio, o del diabete o del colesterolo. Quando ero piccolo io il colesterolo era normale fino a 270, poi l'hanno portato a 240, poi a 220, poi a 200. Dov'è la verità in termini assoluti? È chiaro che induce una spesa a tutto questo, induce un bisogno e la sanità dovrebbe trovare un pochino di decrescita anche la sanità rispetto a quello. Su questo non ci sono dubbi. Però la crisi del sistema sanitario non può essere imputabile ai medici. Sicuramente è imputabile a un passaggio verso le prestazioni, invece rispetto al valore del rapporto medico-paziente. Monetizzare la sanità ha implicato un mercato di competizione tra pubblico e privato e quindi è esploso il sistema.